L'Abruzzo che si colloca virtualmente sul podio di quella che è la campagna vaccinale per numero di somministrazioni. L'Abruzzo infatti è al terzo posto per la copertura della popolazione fra le migliori in Italia nel rapporto tra numero di dosi e abitanti. La regione anche ieri ha superato quota 11.000 somministrazioni. Prosegue intanto a delle spiegate proprio la campagna vaccinale in Abruzzo. Secondo i report aggiornati a questa mattina da Open Data, la regione è al terzo posto in Italia dopo Molise e Liguria per il numero di dosi somministrate in rapporto alla popolazione. Dall'inizio della campagna vaccinale infatti sono state inoculate 67.864 dosi ogni 100.000 abitanti. L'Abruzzo sfiora il podio anche nella graduatoria delle somministrazioni in rapporto alle dosi consegnate. Il dato è del 93,3% di quasi due punti migliore rispetto alla media nazionale. Meglio hanno fatto solo Lombardia, Marche ed Umbria. Le dosi totali somministrate in Abruzzo sono ad oggi 878.121, mentre 304.358 sono le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose oppure che sono state vaccinate con il monodose Johnson & Johnson. Nella giornata di ieri 7 giugno intanto sono state somministrate 11.032 dosi in linea con la media mobile degli ultimi sette giorni. Rispettando questo andamento si calcola che occorreranno due mesi e 15 giorni per coprire il 70% della popolazione. L'obiettivo dell'immunità di greggio potrebbe pertanto essere raggiunto il prossimo 22 agosto.